Eheheheh Va bene Presidente Cos'è per te? Grazie Ohhhh Mentre un po' Mentre un passo Basta con me Grazie mille Obi Magno in Nigeria Ottimo Miki Mazzimo grande Grazie mille Grazie mille Prego Ascolta comunque parli con tutti domani Si Cerchiamo No Cerchiamo No lo so ma siccome io Va bene dai lo stesso Ciao A me potrebbe arrivare Che a me giri Io siccome non ci sarò domani Lo farò oggi Ma è il 18 A me è dato la quattoresi Io devo capire quattoresi Però Però io neanche senza il numero Non vè Però c'è cosa No mi puoi Eh però c'è qui Eh 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 Peppero no Attenzione ma è Eh La sua invece l'ha utilizzata Con tanto di firma C'è signora? Eh sì È grande C'è le preferenze Lì che non dico niente Beh Vabbè comunque Sono contento che mi hai parlato Almeno una maglietta Che ti abbia pensato Eh ti ha pensato Non dovrebbe neanche essersi stancato più di tanto No C'è buona volta Non si vuole dire più niente Senti Ehi Che si smassa polemico Il polemico Ok Meno male